Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Zebaione03 Ragazzi oggi siamo qui sulla prima puntata della serie di Tomb Raid E noi ci vediamo fra poco appena ho attivato lo schermo per farvelo vedere Ok ragazzi ci siamo, questo è il gioco Allora Ok Facciamo Tomb Raid Allora Già se si comincia così non va bene Già lo dico ragazzi perché è proprio Mamma mia rega mi hanno messo una paura perché io ce l'ho sparata a 2000 questo l'audio Quindi mi ha messo una paura mamma mia Allora Vediamo Speriamo anche che Comunque ragazzi ho visto anche Allora ragazzi come dicevo ho visto anche l'ultimo video quando l'ho fatto E mi sembra che va molto molto bene Allora ragazzi siamo sulla prima Per questa vorrei fare una serie Proprio su questo gioco qua Siamo per Xbox Come al solito Questa era per la 360 Ma arrampi cagò Ah ok Ok Ragazzi ci devo un po' capire A questo non l'ho giocato un po' di tempo fa ma Miche se lo ricorda Com'era Quindi ci devo un attimo capire Ok Ok vai Va bene Ah ok Ah ok Ehm Ma che devo fanno Per questa qua E temo proprio di sì Ok Ragazzi è molto molto bello Tutto il gioco Scusate Scusate Cos'è successo No ragazzi non ho capito Che devo fa' qua Allora 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 Fermi Ah ma mi sa che ci sono già Dall'altra parte Sì sì Eh mi fa di sì Ragazzi Allora Poi sta cosa Perché Vabbè Ragazzi Lasciamo la macchina qua Non ho ben capito Che devo fare qua Eh Sinceramente Se volete Saperlo Non so Che vorrei fare qua E poi Si gira Una velocità Proprio E' spettacolare La velocità che fa Ok Ah Ok Così No A quanto pare No Non è così Eh E' impossibile Allora Allora Vedendo così Io non posso Ok Ok Ah ma così Sognerebbe fare Eh Ditemelo prima No Mannaggia voi Eh Cioè Non ho capito Ok Cioè Ci ho perso Tutto Tutta Una cosa Prima Allora Eh Ah Così Raga Non ho capito Come se Si tira Su Scusate Come C'è Cavorato Al massimo Regà Non penso Proprio Che Ok Ok Non devo farlo Proprio così Però Allora Ragazzi Che vi devo dire Io Per il momento Non vi saprei dire nulla Cioè Allora Eh Direi che Per il momento L'appuntamento Di Oggi Il primo appuntamento Di Tom Wright Può finire qua Poi La prossima volta Lo continuiamo Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima Mi raccomando Per chi No Si iscrive al canale E attiva Attivate la campanella Per non perdere il video E noi ci vediamo Alla prossima Con il vostro Zabaione Ciao ragazzi